... Fate largo, attenzione, torre pericolante, scomprare! Largo, largo, lampiera gialla, pericolo incombente, tra la pia da piogra, la supercazzola, quarantena! E' stato, madonna! La bolle è a 170 gradi! Crollo imminente! Crollo imminente! Abbandonare la torre, scendere senza panico, in ordine! Attenzione, zona di rispetto indietro! Mettiamo le transenne! Scendere senza panico, in ordine! Volontari alle palanche, avanti! Evacuare, evacuare, evacuare! Uomini validi e non alle palanche di sostegno! Io m'occupo delle funi! Presto, formiamo squadre di pronto intervento! A correde, ogni secondo è prezioso! Cinque uomini a palo! Puntellare il lato ove! Altri cinque al secondo palo! Avanti per il terzo palo! Veloci, veloci, veloci! Comitari di ogni nazionale cazzo! Viamo! Signori e signori, abbandonate il lato che pende! Giù! Giù! Allù, via! Sare! Appoggiare bene, in verticale! Bene così! Seconda palanca! Lì! Bravissimi! Via dalla torre! Evacuare, scendere di corsa, ma senza farla vibrare! Piano, 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 camminare in punta di piedi! Anche voi giapponesi! Che succede? Diana! Iucuri, io rimesso... Iucudi! Sayonara! Iucudi! Doshiko no! Sayonara! Altre squadre, presto! Dall'altro lato! Alle funi! Alle corde! Conti con me! Conti con me da questa parte, al lato est! Conti con me da questa parte, al lato est! Allora! Attenti, ma all'anciana! Conti con me da piazza, presto! I nodi di lavoro, il solito con me da piazza! Vendete, impugnate! Impugnate, formate una catena! Attenzione al secondo canapo! Tirate! Tirate allo spasimo! Voi, pro di kamikaze! Venite qua, venite qua! Da questa parte! Tutti qui, tutti qui! Tutti a sostenere la base! Braccia tese! Spingete così! Molto bene, bravi! E' l'ultimo, eh? Un ce n'è più! Venite duro, sono misure di assoluta emergenza! Siamo in attesa dell'esercito, genio torrieri! Tirate con fermezza la torre, è un patrimonio! What's up! Ma come cosa succede? Ma che di fare normale? Uno vede come pende? Tirate! Forza! Fermini! Tutti fermi! Che fate la contrapesa! Ecco, è in arrivo il genio torrieri! Vieni via! Vieni via! Vieni via! Aspettate! Ehi! Oh, aspettatevi! Ci siamo tutti? Ma vado via! Oh, va via, eh! Ehi! Ma voi, dove andate? A Bologna! Alla torre degli Asinelli! Anche quella! Eh, eh! Ehi! O da che parte sono andati? A Bologna! Sono andata da quella parte! Ehi! O da che parte... Grazie.